Benvenuti amici del vaso di Pandora, 7 febbraio 1992, 7 febbraio 2022, oggi sono 30 anni del trattato di Maastricht e 30 anni possiamo dire di neoliberismo, dobbiamo fare un po' il punto, rivelare di retroscena tante cose che sono successe e soprattutto cosa succede, che cosa ha comportato e cosa stiamo vivendo in conseguenza del trattato di Maastricht, questo ci sta condizionando completamente la vita a tuttora e continuerà anche a farlo negli anni a venire, quindi è un appuntamento molto importante questo del trentennale e ne parliamo assieme a Fabio Sarsi Amadea che vedo qui già in linea, ciao Fabio, ben ritrovato. Buongiorno Carlo, un saluto agli ascoltatori. Docente di diritto del lavoro, già consulente per la regione Piemonte a Bruxelles, autore di Sbanca d'Italia per Matrix Edizioni che vediamo qui in sovraimpressione, un libro uscito recentemente Fabio nel quale parli, ti soffermi molto e analizzi molto proprio il trattato di Maastricht tra l'altro. Senti, come la maggior parte dei grandi eventi della storia il trattato di Maastricht fu un atto in cui si suggellò un lungo periodo fatto di incontri, dichiarazioni, mutazioni geopolitiche internazionali in quegli anni. Ci vuoi raccontare prima di tutto il contesto politico ed economico che portò all'accordo di Maastricht? Il trattato di Maastricht è proprio figlio del suo tempo, nel senso che si colloca nel contenuto, nelle tempistiche, proprio nel passaggio delle politiche keynesiane dei trent'anni precedenti alla visione neoliberista del mondo. Dal trattato di Roma, o meglio dei trattati di Roma del 1957 che istituivano la comunità economica europea, a Maastricht abbiamo 35 anni, dal 57 al 92. In questi 35 anni abbiamo visto il boom economico dei paesi dell'Europa occidentale, abbiamo visto la fine degli accordi di Bretton Woods nel 71, gli shock petroliferi e centrale nella nostra trattazione, l'avvento al potere di Margaret Thatcher nel 79 come primo ministro del Regno Unito, l'elezione di Ronald Reagan nel 1980 presidente degli Stati Uniti e come ricorda sempre l'ottimo professor Nino Galloni, il G7 di Tokyo dove fu abbattuto l'ultimo pilastro di Bretton Woods, ossia il principio di solidarietà per le bilance commerciali tra stati, per chi importava troppo e chi importava di meno. Lo Stato era diventato il problema, era un pesante fardello che continuava a provocare malfunzionamenti e nel motto di Reagan c'era proprio il detto lo Stato è il problema, il mercato è la soluzione. In questo ambito i paesi membri si mossero nel 1983 con la solenne dichiarazione dell'Unione Europea firmata a Stoccard dagli allora dieci membri che era tra l'altro stata molto caldeggiata dall'Italia con il ministro Colombo e dalla Germania con il ministro Schenker. Era però un'altra Europa, oggi sembra tutto semplice, tutto facile ma ricordiamoci 1983 vuol dire ancora guerra fredda, sì eravamo verso la fine ma eravamo ancora in un'Europa divisa in due blocchi, alcuni paesi come l'Austria, come la Finlandia non si potevano ancora schierare per equilibri di potere del tempo, paesi che oggi vediamo essere membri consolidati dell'Unione Europea come i paesi baltici erano ancora parte dell'Unione Sovietica e quindi il progetto andava avanti ma piuttosto lentamente. Il punto di svolta fu sicuramente la caduta del muro di Berlino nel novembre 1989. Non era un evento inatteso, lo si aspettava, le pressioni interne e esterne erano molto forti, tre anni prima ricordiamo Reagan sotto la porta di Brandeburgo dire mister Gorbachev abbatta questa porta, abbatta questo muro. Lo stesso Gorbachev un mese prima della caduta del muro di Berlino incontrò Onecker, lo storico leader della Germania orientale, con la famosa frase chi arriva troppo tardi e punito dalla vita. E di fatti passano 32 giorni da questa frase e una sera così quasi per caso il muro viene giù. E da lì si apre tutto uno scenario e sicuramente il fatto che 19 giorni dopo, solamente 19 giorni dopo, Helmut Kohl di fronte al Parlamento tedesco senza consultare gli altri paesi europei, presenti il piano in dieci punti di soluzione della divisione tedesca ed europea, rese evidenti subito due punti importanti. Intanto che il piano era pronto da parecchi anni. Kohl l'aveva tenuto in un cassetto, bello pronto all'uso, al bisogno un po' come le gocce per dormire. E poi il secondo aspetto si comprese, soprattutto la Francia comprese, che se non si voleva avere di nuovo un'Europa germanizzata si doveva spingere sull'integrazione europea. Che poi oggi si sia raggiunto il risultato, potremmo discuterne a lungo. Certo, potremmo discuterne a lungo, effettivamente. Ecco Fabio, quali sono i punti principali decisi dal trattato di Maastricht? Intanto il cambio del nome, perché da comunità europea si passò a Unione europea, che sembra simile, ma assolutamente ha delle analogie, ma non sono identiche, perché il significato di comunità è sicuramente superiore quello di Unione. A Maastricht fu decisa l'Europa a tre pilastri, per la cooperazione di polizia e giudiziaria, una nuova politica di sicurezza comune, ma soprattutto il primo pilastro che includeva le comunità europee, che si erano già unite una quindicina d'anni prima, cioè la ceca, carbone acciaio, Euroatom, parliamo di energia atomica, e soprattutto la ceca, e le sue competenze, che includevano anche l'unione monetaria ed economica, quindi parliamo di realizzazione dell'euro. Il punto centrale del trattato fu deciso dall'accordo tra Kohl e Mitterrand. Quando Kohl presentò al Parlamento tedesco i dieci punti per l'unità tedesca, praticamente decisi da lui stesso, le carte diplomatiche raccontano che Mitterrand a Parigi ebbe uno scatto d'ira, una furia, e convocò immediatamente a Parigi il ministro degli esteri francesi per dei chiarimenti. Da lì, nei successivi sei mesi, gli incontri fra i due grandi leader Kohl e Mitterrand furono frequenti, molto spesso segreti, per oltre vent'anni fu tenuto segreto su questi incontri, tanto che solo nel 2010 vennero desecretati, incontri che a volte avvennero anche nella casa privata di Mitterrand sulla costa atlantica, e si arrivò all'accordo fondamentale, un accordo storico per l'Europa, tra l'altro deciso da due persone in una casettina, una cosa, se pensiamo al congresso di Vienna, chi aveva coinvolto, oggi abbiamo due persone che decisero cosa? Esattamente il fulcro di tutto. La Francia accettava una nuova Germania nel cuore dell'Europa con più di 80 milioni di abitanti e la Germania accettava di rinunciare a uno dei suoi punti di forza, che era il marco tedesco. Da lì una lettera congiunta al Consiglio europeo dei due statisti, dove si chiedeva con urgenza un'unione politica d'Europa. E da questo punto qui, siamo ad aprile del 1990, in meno di due anni abbiamo avuto l'unità tedesca, abbiamo avuto il trattato di Maastricht e abbiamo avuto anche la carta di Parigi, che è un documento purtroppo dimenticato, dove fu siglata la fine della guerra fredda e la fine della seconda guerra mondiale, lì si chiusero tutte le porte sul passato, per avere degli accordi di disarmo, di pace paneuropea, arrivando all'organizzazione di sicurezza comune europea, che è un ente che esiste, è il più partecipato d'Europa, ha 57 membri, pensate che include anche il Vaticano, San Marino e il Principato di Monaco, ma mai nessuno l'ha ratificato e praticamente la cosa si è sciolta lì. Purtroppo invece si è sempre cercato di, come sicurezza, allargare la Nato ad est, coi problemi che vediamo in questi giorni qua. Sì, quei problemi che stiamo vedendo proprio drammatici. Senti Fabio, quale fu la reazione dei popoli europei? Perché questo anche a livello mediatico è sempre stato lasciato molto sullo sfondo, direi anche volutamente, perché i popoli ovviamente hanno nei rispettivi paesi, abbiamo avuto un referendum al riguardo e appunto volevo sentire qual è stata la reazione dei vari, dei popoli dei vari paesi europei, anche perché la ratifica non fu una semplice formalità, no? Assolutamente no, perché iniziò il 2 giugno del 1992, in contemporanea Draghi che saliva Sud Britannia, iniziò la Danimarca con un referendum che fu respinto. I danesi non sopportavano al principio di sussidiarietà, come era stato scritto, troppo federale per un paese così geloso della sua indipendenza. Ma non fu il solo, il Parlamento inglese bocciò il trattato e fu salvato da John Major, nuovo primo ministro del dopo Thatcher, ponendo la fiducia sul proprio governo, quindi si arrivò ai ferricorti. La Germania, 20 ricorsi di legittimità alla Corte Costituzionale tedesca che portarono a oltre un anno e mezzo l'inizio, il via libera tedesco al trattato. Il punto centrale però era il referendum francese del 20 settembre. Le previsioni erano ai medi una vittoria del no, tanto che si spese tutta la classe politica francese per convincere i francesi a sottoscrivere il trattato di Mastri che voleva dire rinunciare al Franco, perché se per la Germania era difficile rinunciare al Marco, anche i francesi non è che al cuore leggero lasciavano la loro moneta storica. Il risultato fu del 51% a favore e si andò avanti. Un eventuale no avrebbe bloccato il trattato, cosa che poi capitò 13 anni dopo, nel 2005, con la pseudo Costituzione europea che fu bocciata dai francesi si fermò di processo. Per quanto riguarda l'Italia, la cosa è singolare, perché noi nell'89 abbiamo votato un referendum che era un po' particolare, è stato un unicum nella nostra storia, era un referendum consultivo ma di indirizzo politico, perché la nostra Costituzione non prevede la possibilità di avere referendum sulle ratifiche dei trattati internazionali, ma lì fu pensata una cosa interessante. Noi chiediamo l'opinione del popolo e secondo l'indirizzo che ci darà il popolo il Parlamento si muoverà, come può fare costituzionalmente. Cosa chiedeva questo referendum? La creazione di un'Europa con un governo responsabile di fronte a un Parlamento europeo, eletto con poteri da vero Parlamento, non come quello che abbiamo al momento, che poi vedremo dopo, magari di dire qualcosa anche su questo. Fu molto partecipato, anche se non determinante dal punto di vista legislativo, fu partecipato da oltre l'80% degli eventi diritto, l'88% votò sì, ma fu bellamente ignorato, tanto che poi la ratifica del trattato di Maastricht nel settembre-ottobre del 1992, nonostante la terribile estate del 1992, quella della speculazione sulla lira di Soros dall'uscita dello Sme in condizioni disperate, dove nessuno dei paesi europei collaborò per salvare la lira e quindi c'era già una certa aria che tirava nella collaborazione tra stati, il Senato votò il 90% a favore della ratifica, la Camera l'86%. Senti, dei 252 articoli del trattato sono rimasti celebri i 5 parametri di convergenza per realizzare l'unione monetaria. Ci racconti come furono originati questi parametri? C'è qualche aneddoto anche, tra l'altro, curioso al riguardo? Le 5 leggi di Maastricht, come io amo definirle. Erano 4 parametri e una condizione, l'aver partecipato per almeno due anni al sistema monetario europeo senza svalutazioni. Altro due riguardavano l'inflazione e i tassi di interesse, ma quelli che diventarono delle vere superstar televisive erano il 3% del deficit sul PIL e il 60% del debito sul PIL. E qui sì, gli aneddoti si sprecano. Si sprecano. Alcuni sono più o meno conosciuti, ma adesso è bene che li riepiloghi. Si potrebbe pensare in maniera comprensibile che, vista la solennità dei parametri, ci fossero stati dei grandi studi di economia, di macroeconomia, econometrici, e invece furono quasi frutto del caso. Il primo è quello del 3% di origine francese. Siamo nel 1981 e Mitterrand, dopo aver vinto le elezioni, inizia a mantenere le promesse, se non che il deficit del paese in pochi mesi raddoppia. Passa da 50 a 100 miliardi di franchi, 2,6% del PIL francese. E Mitterrand ha necessità di avere un paletto che possa fermare tutti coloro che stanno andando da lui a battere cassa, perché vinte le elezioni poi si sa che si deve rendere certi favore e certe promesse. E quindi chiede a una serie di funzionari del Ministero delle Finanze francesi di lavorare su questo. E un funzionario, Guy Abeil, che ironia della sorte tradotto in italiano vuol dire Guido Lappe, riceve questo incarico e semplicemente pensa ma l'1% è inarrivabile. Il 2% mette troppa pressione al governo, il 3% va bene, suona bene, poi ricorda anche un po' la Trinità. E quindi lui stesso in una successiva intervista di qualche anno dopo ammise che non c'era nessun ragionamento economico, nessun grande studio dietro, che in meno di un'ora era sulla scrivania del Presidente. Et voilà. Nel 1991 poi sempre su spinta francese venne reso su livello europeo. Continuava a non avere senso. Quell'anno lì il Presidente della Bundesbank, l'Arcinio Tietmayer, ammise anche lui che da un punto di vista economico, non aveva nessuna logica. Anche quello del 60% è curioso ed è ancora più sbrigativo. Lo racconta uno dei tre firmatari italiani a Maastricht, che all'epoca era ministro degli esteri, Gianni De Michelis, il Doge, e disse che fu fatta semplicemente una media ponderata dei debiti degli Stati europei, venne fuori che era del 57% e che quindi il 60% andava benissimo. Anche lì nessun riferimento econometrico, quasi poco più che il caso. I cinque parametri però è bene ricordare, sotto gli occhi di tutti, che sono parametri puramente monetari e finanziari, perfettamente in linea con la visione neoliberista che abbiamo visto. Guido Carli, secondo dei tre firmatari, il terzo era Giulio Andreotti che all'epoca era capo di governo e invece Guido Carli era ministro del Tesoro, in una sua autobiografia di qualche anno dopo confessò di aver provato a inserire un parametro che riguardasse il tasso di disoccupazione per aggiungere una parte sociale a questa ingegneria finanziaria di Maastricht. Ma sembrerebbe che la cosa non dò buon fine, non fu assolutamente ignorata la sua proposta, ma sembrerebbe anche perché, e qui c'è un altro aneddoto dei parametri, 3% sul deficit, che è poi quello che negli anni successivi abbiamo visto sempre ripreso da giornali, telegiornali, il punto centrale per i successivi cinque anni per l'Italia era questo benedetto 3%. La via tedesca e olandese era di una 3% rigoroso, non lo si doveva assolutamente superare. La visione italiana, che fu sostenuta anche con forza dagli inglesi e anche tutto sommato dalla Francia, ma soprattutto dagli inglesi, prevedeva invece un tasso tendenziale, che ci si possa avvicinare in maniera tendenziale al 3%, oppure, come proposto dagli inglesi, che l'eventuale sforamento fosse solo limitato nel tempo. Ovviamente i tedeschi si rifiutarono immediatamente, si racconta che nelle stanze segrete di… qui siamo ad Appeldorm, è una cittadina a 100 km a nord di Amsterdam, è il 21 settembre del 91, quindi 4-5 mesi prima della firma finale. Sembrerebbe che gli inglesi abbiano parlato con i tedeschi dicendo «Guido Carli è colui che negli anni 60 fece gran spinta per cancellare il debito tedesco e voi dimenticate così in fretta chi vi aiuta?» Al che il ministro delle finanze tedesco, Theo Weigel, non sapendo più cosa dire, dovette accettare la visione italo-tedesca. Ce la fecero poi pagare, perché il patto di stabilità di 5 anni dopo sembra essere nato dalla rabbia di Weigel di dover accettare quella posizione. Dalla rabbia di Weigel di dover accettare quella posizione? Beh, ci stai rivelando anche parecchi retroscena e tanti aspetti molto importanti per capire quel momento storico, del quale adesso veniamo proprio ad oggi. Quello che ti voglio chiedere è quanto ha inciso in questi 30 anni il sistema di governo che è deciso da Maastricht e quanto incide ancora nella vita quotidiana mia, tua, dei nostri ascoltatori, degli italiani in pratica? Mi dai 4-5 ore per rispondere, no? Bene, bene. No, guarda, qualche minuto, ma quello servirà, sarà sufficiente per dare proprio il quadro di quello che comporta per noi. A Maastricht fu creato un percorso che poi in questi 30 anni ha visto l'aggiunta del già citato patto di stabilità, del fiscal compact, del MES e di tante altre diavolerie di ingegneria finanziaria che hanno praticamente poi costretto, specialmente la zona euro ormai ha una austerità permanente. Si continua a curare con tutto ciò che ha procurato il mal iniziale, quindi siamo un po' come si dice, ci stiamo segando il ramo su cui siamo seduti sopra. Politiche restrittive che non permettono di intervenire quando le economie hanno realmente bisogno e su questo potrebbero veramente dire tante cose, quindi citerei prima un ragionamento complessivo sull'Europa, poi scendiamo sul caso italiano. Nel 2019 la piattaforma tedesca Social Europe ha, con dati Eurostat, fatto un interessantissimo lavoro indicizzando tutti i PIL dei paesi europei dal 2007, anno prima della crisi dei mutui Supreme, fino al 2019, quindi ben 12 anni di periodo. Abbiamo poi la divisione in due gruppi, zona euro e paesi ancora con propria valuta, 337 milioni di persone nel primo gruppo, 172 nel secondo, quindi abbiamo un numero decisamente corposo di persone, di anni, di paesi e di paesi anche misti perché in entrambi i gruppi abbiamo sia paesi occidentali sia paesi orientali. L'andamento dal 2007 al 2011 della crescita dei PIL è pressoché coincidente. Dal 2011 in poi, quando partono le grandi misure di austerità della zona euro, arrivando fino al 2019 abbiamo una crescita del 20% dei PIL della zona non euro e del 9,7% della zona euro, meno della metà. E quindi considerando che su otto anni e su tanti paesi e quindi non una cosa che può essere di breve congiuntura, merita decisamente una riflessione. Invece per quanto riguarda il caso italiano, che è un po' il caso nel caso, c'è un lavoro molto interessante di un economista olandese, Servas Storm, che è un nome non molto noto in Italia ma è di caratura internazionale, che si intitola Come rovinare un paese in 30 anni e lo cito perché è stato commissionato da una think tank, da una piattaforma di pensiero new yorkese, tra cui i fondatori c'è George Soros, quindi non credo che possa essere di sospetto sovranista o anti-UE o quello che sia. Questa ricerca su partenza dal 1960 dimostra come l'Italia, in tanti parametri sui salari, sui profitti, sulla domanda interna nel 1960 rispetto agli arti partner dell'allora G6, quindi prevalentemente Germania occidentale e Francia, aveva circa un gap del 25% su tutti questi parametri. Nei primi anni 90 questo gap è praticamente azzerato, per poi avere nel 2019 una situazione di maggior distacco dell'Italia rispetto agli altri paesi del 1960, come se si fosse tornati indietro a 60 anni fa. Allora potrebbe essere facile per qualcuno dire sì ma stiamo pagando le finanze allegre degli anni 80 e quindi poi quello emerso da Mastricht in avanti, come se temporalmente 92 ci stiamo prendendo i fardelli degli anni 80. Però su questo mi piace riportare cosa è stato scritto da Der Spiegel. Der Spiegel è il più importante settimanale tedesco, oltre un milione di copi di tiratura e in un suo editoriale, qui sottolino editoriale, non è quindi un articoletto in penultima pagina magari a fianco dell'oroscopo editoriale, di Thomas Fried, che è un nome che potrebbe non dire tanto, ma è stato per più di dieci anni capo del Financial Times Germania, capo economista, quindi di nuovo un nome che sa il fatto suo, dove in questo editoriale dice che se per 30 anni l'Italia è stata primatista mondiale di avanzi, quindi detto in maniera più semplice, è 30 anni che abbiamo il più alto risparmio pubblico al mondo, se dopo 30 anni lo Stato è ancora in crisi con questa situazione, vuol dire che è il modello che non funziona. Il modello che non funziona, mi sembra una disamina incontrovertibile effettivamente. Senti Fabio, da più parti anche non euroscetti, che si parla di riforme necessarie della governance europea decisa a Maastricht. Quali sono, a tuo avviso, quali sarebbero secondo te le più urgenti? Ecco, anche io qua separerei la parte più politica istituzionale da quella economica monetaria. Nel primo caso abbiamo una governance europea ancora bizzarra e che sicuramente dovrà essere in qualche maniera ritoccata, perché abbiamo un Parlamento europeo, unico organo eletto dai cittadini europei, che ha il triste e il primato di essere l'unico Parlamento che non ha potere di iniziativa legislativa. Fa un po' il semaforo rosso e verde solo sulle proposte, prevalentemente della Commissione. E tra l'altro neanche in via esclusiva, ma in co-decisione col Consiglio. Quindi chiamare Parlamento un ente che passa carte di lusso, chiamiamolo così. Ma non è l'unico aspetto debole. Abbiamo un Consiglio europeo costituito dai capi di Stato e di governo che si riunisce per dare gli indirizzi politici. E quindi di nuovo rimandiamo tutto agli Stati. Ma non solo. Abbiamo poi un Consiglio dell'Unione europea, sembrano dei giochi di parole, che è formato dai ministri della materia, che quindi variano ogni volta. Ministri, quindi potere esecutivo, ma che vota insieme al Parlamento, potere legislativo, le proposte della Commissione. Allora io spero di non essere troppo confusionario in questo, ma per dire che abbiamo una mistura di potere esecutivo e legislativo che crea veramente sempre un non si sa chi deve fare cosa. La Commissione europea, potere esecutivo, ma con potere legislativo e che poi negli ultimi anni si è anche trasformato in una sorta di commercialista degli Stati. politici, quindi decisamente l'idea del referendum 1989, magari riamodernata perché sono passati quasi 40 anni, potrebbe essere utile riproporre. Per quanto riguarda invece la parte economica, la zona euro non è, secondo la teoria delle aree valutari ottimali, una zona che dovrebbe avere una moneta unica. E' la teoria di Robert Mundell, che fu premio Nobel nel 99 su queste teorie, che non è assolutamente un sovranista, anzi fu consulente della Commissione europea nei primi anni 90 proprio per arrivare alla creazione dell'euro. Punto debole tra i vari e sicuramente la scarsa mobilità dei lavoratori in Europa, i problemi linguistici, i problemi culturali. I paesi europei non sono gli Stati Uniti e quindi questo ha fatto sì che pur con la libertà di circolazione dei capitali ci sia ancora questo grosso limite. Allora potrebbe essere anche facile dire basta uscire dall'euro, ma qui abbiamo un grosso problema istituzionale. Il trattato di Maastricht non prevede l'uscita dall'euro e su questo le parole di Jacques Catalì, eminenza grigio di tutti i presidenti francesi da Mitterrand in avanti, che fu compilatore di quella parte del trattato di Maastricht, in un'intervista qualche anno dopo, in maniera anche quasi di schermo, disse che abbiamo avuto cura di dimenticarci di scrivere l'articolo per rendere possibile l'uscita dall'euro. Quindi c'è una chiara volontà politica dietro questo. Quindi il pacchetto va preso tutto completo, o si esce dall'Unione Europea o niente. Allora, la cosa è decisamente spinosa, decisamente complicata, sarebbe lunghissima, ci vorrebbero tantissimi anni. Ricordiamoci che la stessa Gran Bretagna, con un'attitudine del popolo inglese sicuramente molto più prudente verso l'ambito europeo, diciamo così, per essere super diplomatici. Dal momento dell'idea del referendum per la Brexit, alla sua proposta, all'esecuzione, a tutta la trattativa con la Commissione, sono passati più di sette anni. Quindi non è un processo immediato. E che avevano la loro moneta, ovviamente. Hanno sempre saggiamente mantenuto la loro moneta. quindi l'aspetto fondamentale poi, oltretutto. Certamente. Ottima aggiunta. E questo cosa vuol dire? Che più realisticamente, anche per avere un approccio più nel breve e medio termine, si dovrebbe andare a agire sulla più grossa disfunzione dell'euro, che è quella di non permettere agli Stati di avere spesa pubblica netta senza andare a creare debito sui mercati finanziari. Tra l'altro un debito che è gestito in una moneta su cui nessun Stato ha il controllo. O forse uno, ma non diciamo quale, tanto lo sappiamo. E questo ha fatto sì che tante situazioni che sarebbero potute essere risolte con degli interventi relativamente leggeri, si sono complicati. Il trattato di Maastricht ha, tra tanti limiti, anche quello di non permettere politiche anticicliche, che vuol dire poter allargare la borsa quando le cose non stanno andando troppo bene e quindi serve un po' foraggiare, per poi anche richiuderla quando l'economia corre un po' di suo. Altra cosa che sarebbe urgente fare è che la banca centrale europea torni a fare la banca centrale e non questa sorta di mega banca d'affari, ossia intanto che faccia del prestatore di ultima istanza. Cosa vuol dire? Poter comprare anche direttamente titoli. E poi un altro punto interessante, riprendendo quello che non riuscì a fare, guido Carli a Maastricht, la Federal Reserve è una banca centrale con doppio mandato. Ha l'obiettivo della stabilità dei prezzi, ma ha anche l'obiettivo della piena occupazione. In perfetto stile anni 90 la BCE non ce l'ha. La prima banca centrale al mondo a sposare la visione monobiettivo, solo stabilità dei prezzi, fu nel 1990 la banca centrale della Nuova Zelanda, che però, visto negli anni successivi la difficoltà di quanto questo obiettivo ingessasse letteralmente sia l'economia pubblica sia l'economia privata, nel 2018 è tornata sui suoi passi e ha aggiunto, pari al primo, il doppio obiettivo della piena occupazione e della stabilità dei prezzi. Cosa che ovviamente alla BCE manca completamente. Manca completamente. Direi che abbiamo concluso con queste ultime considerazioni. Una trattazione fatta come si conviene, tra l'altro da un esperto, da un profondo conoscitore proprio del trattato di Maastricht. Era dovuto anche da parte nostra del vaso in Pandora ai nostri ascoltatori, in occasione del trentennale di questo trattato, con molti monti oscuri e punti oscuri di questa fusione a fa... Come? Ufficialmente firmato alle 18.05. A 18.05, sei anche proprio l'uomo dei numeri, bisogna dire. Ecco, di questo trattato con tanti punti veramente oscuri e che suggella quella che è stata, direi possiamo sintetizzare, una fusione a freddo praticamente dei vari stati troppo eterogenei per cultura, per tradizioni storiche, per anche tipologie di popoli e anche per il loro percorso economico. Questa è stata la fusione comunque a freddo di 30 anni fa, con tutti questi grossi problemi che stiamo, come dicevo prima, portando sulle nostre spalle e subendo anche e soprattutto noi italiani. Siamo in conclusione, io ringrazio molto, ti ringrazio molto Fabio, Fabio Sarsi a Madea, docente di diritto del lavoro, già consulente per la regione Piemonte a Bruxelles. Noi ci diamo appuntamento con una delle... con la prossima pillola di gocce d'Europa, la tua rubrica qui al vaso di Pandora. Senz'altro, grazie Carlo. Grazie, lasciamo i nostri ascoltatori con la curiosità di quale sarà il prossimo tema, i temi che hai trattato nelle ultime pillole sono stati particolarmente apprezzati, anche perché erano fondamentalmente inediti e quindi restiamo io stesso con la curiosità di sapere, ma lo sapremo tutti fra qualche giorno, quale sarà il prossimo tema che affronterai. Grazie, grazie ancora Fabio Sarsi a Madea e i nostri ascoltatori. Grazie a tutti.